Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Voglio approfittare di questo contenuto per parlare di lavoro e più in generale per cercare di condividere le mie esperienze e magari darvi qualche consiglio utile per massimizzare le proprie possibilità quando ad esempio si fa un colloquio, ma anche perché no, quando bisogna interagire con un cliente. Quindi poniamoci la domanda, perché abbiamo bisogno di quel lavoro? Se la nostra risposta è semplicemente per guadagnare e arrivare comunque alla fine del mese stiamo minimizzando fortemente le nostre capacità di ottenere quel lavoro proprio perché, come ci siamo noi, ci saranno tantissime altre persone che si candidano esattamente per lo stesso motivo. Però potremmo comunque fare uno sforzo in più e provare a pensare beh, io mi candido logicamente perché devo avere comunque un contributo economico, questo è scontato, però voglio offrire un contributo a quella società, a quell'organizzazione in prima persona, mettendomi alla prova, dando prova che io tengo a quella missione. E quindi, se noi cambiamo mentalità in questo senso, verosimilmente se ne renderà conto in qualche modo anche il nostro intervistatore. E quindi è logico, tra una persona che, tra due persone che hanno pari competenze o anche una persona che ha tante competenze, però non è praticamente coinvolta nell'intervista, una persona che magari ha un po' meno competenze, però dimostra di essere committed con quell'azienda, di avere la capacità di impegnarsi fortemente e quindi avere anche delle prospettive di crescita, allora l'intervistatore al 99% sceglie sempre la persona che nel lungo termine dà più possibilità di affidabilità fondamentalmente. Proviamo anche a cambiare metafora. Immaginiamo che ci sia una persona che ci interessa e con la quale vorremmo uscire. Bene, se noi andiamo semplicemente da quella persona e diciamo guarda, mi piaci, vorrei uscire con te, magari verosimilmente ci saranno tantissime altre persone che le fanno la stessa richiesta e quindi perché dovrebbe scegliere noi anziché un altro, esattamente come il discorso di prima. Però invece se noi nel tempo andiamo a dimostrare a questa persona che comunque ci teniamo, cerchiamo di darle valore, di starle vicino, di ascoltarla, è logico, noi stiamo dando un valore e una moneta che non è facilmente replicabile da altre persone e quindi quella persona al 90% dei casi in qualche modo ci considererà e ci terrà strette in qualche modo proprio perché il contributo che noi gli stiamo dando è un contributo importante che non tutti hanno la volontà di offrire. Quindi per riassumere, sostanzialmente ogni volta che noi siamo bisognosi di qualcosa minimizziamo fortemente le nostre capacità di ottenere quello che vogliamo proprio perché noi in realtà implicitamente vogliamo ricevere qualcosa che potrebbe essere uno stipendio, una relazione o avere una commessa da parte di un cliente però l'altra parte non percepisce il valore che possiamo darle, quindi l'altra parte si sente quasi di doverci fare le lemosine in qualche senso e il 99% non otterremo quel risultato. Però invece quello che io suggerisco di fare è provare sempre a cambiare prospettiva, quindi provare a mettersi nei panni dell'altra persona. Quindi chiediamoci, immaginiamo di essere noi gli intervistatori, perché io dovrei dare il lavoro a quella persona? Mi ha convinto? Mi offre qualcosa che gli altri non mi offrono? Bene, se la risposta che voi vi date voi stessi è negativa, molto difficilmente appunto otterrete quello che volete ottenere. Quindi, per concludere e tirare le somme, il mio consiglio non è quello di imparare delle competenze nella speranza di trovare un lavoro. Invece il mio consiglio è fare un ragionamento un po' più interiore e forse un po' più astratto, però cercare di capire quali sono le nostre attitudini e quindi cercare di capire come, vabbè, naturalmente farle evolvere, potenziarle nel tempo e padroneggiarle e andare a capire qual è il contributo che possiamo dare in base ai diversi contesti. Nel senso, ad esempio, nel mio caso, io mi sento molto a mio agio nel contesto informatico, mi piace studiare nuove tecnologie, mi piace comunque proporre soluzioni ai clienti e quindi ho, diciamo, questo approccio ibrido nel quale non sono il massimo esperto di una particolare tecnologia, ma mi piace avere uno spettro abbastanza ampio che magari passa dall'intelligenza artificiale alla blockchain, a Python, per farvi un esempio, ma mi occupo anche, ad esempio, di microservizi, come avete visto nei video precedenti. e però mi piace anche migliorare le mie skills comunicative, cioè andare a capire quali sono i need del cliente e come posso aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi fondamentalmente. Quindi, allo stesso modo, nel vostro ambito di competenze, non è che tutti devono essere per forza informatici, ad esempio, però dovete capire qual è il vostro valore aggiunto unico che vi permette di dare valore ad altre persone. Quindi, una volta che voi avete questa consapevolezza interiore, potete anche permettervi di non prendere qualunque tipo di colloquio o di opportunità economica, a meno che, logicamente, non siate costretti ad altri tipi di ragionamenti, però andare mirati verso le persone a cui sapete che potete dare un contributo e queste persone, prima o poi, riusciranno a notare quello che vi differenzia e il valore che potrete darle e a quel punto, naturalmente, avete raggiunto il vostro obiettivo. Va bene, fatemi sapere se contenuti di questo tipo vi possono interessare e così io proseguo anche su questa linea oltre a quella più tecnica e informatica. Secondo me, anche ragionamenti di questo tipo sono molto utili un po' in tutti i contesti, ma soprattutto anche nei contesti scientifici, dove magari si pensa sempre tantissimo alle hard skills, che sono importanti, però anche le proprie capacità comunicative ed empatiche di entrare in contatto con le altre persone permettono più facilmente di risolvere magari situazioni difficili o comunque addirittura di concludere dei deals. Va bene? Vi ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao da Valerio.